La rosa ha già capo e ha cominciato una bella giornata di merda, eh? Comunque, l'uomo non ce ne sa ne più. E chi l'aveva ragione, Cerogena. E quando tu? Chi aveva ragione? Lo so, non stanno da accesi, che li costruiscono. Sì, ignoranti, Cerogena. Ah, l'inventore di Cerina. Quando, mamma? Chi è, su Cerogena? Il filosofo greco. Il filosofo greco? Quello che cercava l'uomo. Sì? Cerogena. Fatto a casa. Cercava l'uomo con la lanterna in mano e non lo trovava. Ma tu vuoi dire Diogene? Diogene! Tu non ti manchi degno, non mi hai Diogene! Ma chiama? Non va a cominciare a parlare di russi, russi. Oce, rogena! Ma perché tu lo conosci? Ma cercava l'uomo? Ma perché poi cercava? Che significa? Animale, animale. Poi lo fai a diventare ricchiare di Occi. Sì? Ma lui cercava l'uomo nel senso filosofico. Nel senso della... Io l'ho studiato a scuola. Cercava nell'uomo l'essenza. L'essenza. Concetto. Filosofia! Capito? Essenza, concetto, filosofia! Ma quando? Ma chi se cercava concetto? Filosofia? A Vicenza? Vieni, vieni, trottate lei. Non faccio stamattina. È meglio quando stai in tuo bagno. Sai, Leonardo! Comunque il mondo è cambiato. Non è più come una volta. La donna è cambiata. Mi ricordo la donna all'inizio del mondo era... Ma perché tu c'è stiva, donna? No, però ho studiato. Mia figlia mi informa che la donna all'inizio del mondo era una preta. Che era? Poi piano piano. Era una preta, poi piano piano. Una preta? Poi mano a mano si è animata, sta preta. Sì, ha fatto la prena animata. Ma che ti ha accontato la tua figlia? Che capisce? Gesù, quando l'uomo a pensato a una femmina si portava l'indagrotto. Questo mi piace, questo no. Per esempio a me piaceva lei. La figliava mia figlia mi ha portato l'indagrotto. E che era una... Perché da che mondo è una femmina è stata preta e l'uomo cacciatore. E a me lo pigliava una preta. La preta! No, è preta che ti piaceva il preto. E ti pigliava la figlia, lo pigliava, lo pigliava, lo pigliava, lo pigliava, lo pigliava. E' una bella lunga, lo pigliava, lo pigliava e lo pigliava in grotto. Grazie a tutti.